Due giovani fidanzati decidono di far conoscere i rispettivi genitori. La madre di lui è una donna sola che l'ha cresciuto senza un padre, il padre di lei è un vedovo. Se nonché a rendere i rapporti difficili ci si mette la politica, tanto che alla fine se la coppia giovane scoppierà, i mancati consuoceri, pur nelle loro differenze, troveranno un punto d'intesa. Vive dunque di paradossi, visita il testo di Vinko Mördendofer che al ridotto di Via Petronio chiude la stagione 2014-2015 dello stabile sloveno e debutta giovedì 7. Una commedia leggera e pertanto in grado di raccontare molto della realtà quotidiana, forse non soltanto slovena, di famiglia si parla un po' dappertutto e l'ideologia interviene altrettanto pesantemente nei rapporti personali e familiari in ogni dove. Nella migliore tradizione dunque si riderà e si potrà pure pensare. Gli interpreti coppia anche nella vita Tina Gunze che è primo sforte, Vladimir Jurtz e Maya Blagovic. Lo spettacolo può contare sui costumi di Alan Raniteli che ha lavorato per il Cirque du Soleil ed è diretto dallo stesso Mördendofer, autore di numerose regie teatrali e televisive, il quale proprio durante la preparazione di visite ha ottenuto un premio al Festival Cinematografico di Tiburon in California per il film Inferno. Grazie.